Gran bel successo per la Giorgetesi Group che ieri sera nella partita di recupero della 21esima giornata ha strapazzato Trento, squadra rivelazione di questo campionato. 86-69 il risultato finale con un più 17 che ribalta almeno 14 dell'andata e che potrebbe essere utile in chiave playoff. Già perché ieri sera quella parola è stata pronunciata per la prima volta da coach Moretti, visibilmente soddisfatto. Per guardare avanti, per guardare a questo obiettivo che oggi ci possiamo porre, che è quello dei playoff, perché oramai il primo grande risultato di questa stagione è quello di mantenere la serie. Io credo, anche se matematicamente non è ancora fatta, lo abbiamo sempre avuto, ma a otto giornate della fine abbiamo un margine che ci può far guardare avanti con grande fiducia. E lo voglio dire al di là della retorica, perché non ci possiamo mai dimenticare, non vogliamo dimenticarci da dove veniamo, da dove siamo partiti tanti anni fa e comunque che anche con i grandi risultati che abbiamo ottenuto siamo sempre in una società che è orgogliosa di essere qua, una squadra che è orgogliosa di giocare in Serie A, ma si rende conto che è un miracolo, è un miracolo sportivo che ogni anno si ripete e tutti se lo devono ricordare in maniera tale da aver ben presente questo aspetto. Guardiamo avanti, guardiamo avanti con fiducia, abbiamo otto partite, anche se cinque trasferte, tre in casa, scontri diretti, il calendario di certo in questa seconda parte non sarà facile, però è giusto che guardiamo davanti a noi e alziamo la testa perché i ragazzi se lo meritano, noi dopo sei mesi, sette mesi di grande lavoro ce lo meritiamo e perché la nostra società e il pubblico se lo merita. La corsa al prolungamento della stagione è quindi aperta, non sarà facile perché il calendario non aiuta, ma ora la mente sgombra, i tifosi e incommiabili anche mercoledì sera ci credono, la squadra sembra in ottime condizioni e deve rientrare Landon Milburn, ancora fermo per un problema ad un piede. Sono due punti importanti che ci facilitano, cioè non ci facilitano, ci portano più su, ci servivano questi due punti, ma come tutti quanti, che comunque ci ha tolto un po' dall'impizzo di dover recuperare di più magari il futuro, invece così siamo in pieno gioco, insomma, siamo nel mucchione. Grazie.